Il tratto della strada provinciale 460 ha chiuso tra gli svincoli di Lombardora e Leny. La pioggia dei giorni scorsi ha nuovamente peggiorato la situazione dell'avvallamento, già presente, con un ulteriore cedimento del tratto stradale, tanto che oggi si è verificato un incidente per fortuna non grave. La chiusura si rende necessaria per poter procedere al ripristino del tratto. Il traffico veicolare è stato deviato sulla viabilità alternativa alla strada provinciale 267. Il consigliere della città metropolitana, delegato ai lavori pubblici, Antonino Iaria, fa sapere che si sta già provvedendo ad organizzare un intervento urgente di consolidamento del manto stradale. Si tratterà di lavori non brevissimi, della durata almeno di alcune settimane. Grazie a tutti. Grazie a tutti.